Perché la società e mass media disconoscono l'abuso sociopatico e narcisista? Nonostante sui social se ne parli diffusamente, se escludiamo il materiale tecnico che si trova per la maggior parte nel blog o su YouTube, la materia è quasi assente tra i grandi mezzi di comunicazione nelle librerie o nelle biblioteche. Ciò che acconta è più grave è il fatto che i mass media, quando riportano casi che sono chiaramente opera di psicopatici, li intitolano con eufemismi, con etichette sbagliate che aumentano la mancanza di conoscenza dell'argomento. Sono Paola Fendoni e vi do il benvenuto sul mio canale dove tratto il tema del narcisismo e delle relazioni tossiche. In queste settimane abbiamo letto diverse notizie sull'azione di psicopatici trattati in maniera incompleta o erronea. Il fatto che ci siano uomini e bambini, non solo donne vittime della violenza di narcisisti psicopatici, non è da sottovalutare. Basta dare un'occhiata alle statistiche sui maltrattamenti dei bambini fisicamente ed emotivamente dalle madri per capire che l'espressione violenza domestica è un pochino più ampia. Possiamo arrivare a educare i nostri figli senza pregiudizi di genere. Possiamo giungere ad una società in cui le donne siano protagoniste tanto quanto gli uomini e anche così l'abuso persisterà. Occorre capire che ciò che c'è dietro il comportamento delle persone violente che mettono in atto una violenza psicofisica è una personalità psicopatica che può adattarsi a qualsiasi ambiente pur di esercitare il controllo assoluto sugli altri. In una società ugualitaria fingeranno di essere sensibili e progressisti per poi maltrattare e fare del male nell'intimità. Dall'altro lato le istituzioni che aiutano le vittime e quelle che si occupano della giustizia devono aggiornare le loro conoscenze sulla materia o in caso contrario rischiano di affondare la vittima e favorire il carnefice. Quante volte leggiamo casi di uomini che hanno sedotto e fatto impazzire d'amore molte donne o viceversa e che hanno truffato fingendo di passare un brutto momento? I canali televisivi non sempre usano i termini appropriati. Secondo le neuroscienze il 4% della popolazione mondiale è psicopatica o narcisista ed è un numero sufficientemente alto se lo paragoniamo all'incidenza della schizofrenia o dell'anoressia che dovrebbe quindi avere l'importanza che merita. La schizofrenia è studiata in tutti i centri di igiene mentale, laboratori, università, per trovare cure e terapie che aiutino i pazienti che ne sono affetti. Anche l'anoressia nervosa è oggetto di ricerca. Perché allora nell'ambito scientifico ci sono così poche persone che si occupano di questi disturbi e diffondono le loro ricerche? Perché i mass media non ne parlano nonostante parlino di altri disturbi mentali che affliggono una minor quantità di popolazione? Perché gli stati non fanno nulla in merito? Le statistiche affermano che durante il corso di tutta la vita una persona si ritroverà di fronte a una media di tre narcisisti psicopatici. Questo può accadere in un contesto che non le danneggi più di tanto, ad esempio il marito di una collega, di una cugina, un professore universitario, ma se lo psicopatico si trova in famiglia o sul luogo di lavoro questo sicuramente avrà delle conseguenze sulla persona che interagisce con lui. Tenendo conto che gli psicopatici non hanno un solo partner ma più relazioni parallele durante tutta la loro vita, posti di lavoro e figli, statistiche contenute ci dicono che il 25% della popolazione è stato colpito tra livelli moderato e severo in qualche ambito della vita da uno psicopatico narcisista. Tuttavia, davanti alla totale ignoranza della materia, molti non lo sanno. Coloro che sono state vittime di trappole sul posto di lavoro diranno che il collega li ha danneggiati, era una persona molto malvagia, la ragazza che piange depressa mentre legge che è così breve l'amore ha vissuto una bugia calcolata e piena di odio che non le permette di stare bene e riprendersi in mano. Dal punto di vista di qualsiasi norma sulla salute, questi numeri sarebbero considerati un'epidemia di proporzioni catastrofiche. Ciò nonostante continuiamo a vivere in una coltre di nebbia nella quale pochi scienziati, psicologi e centri di studio si dedicano, mentre il resto degli organismi sulla salute, associazioni, mezzi di comunicazione e la società in genere non hanno il minimo interesse a prevenire l'abuso su altre potenziali vittime e ad aiutare colore che sono stati danneggiati dalle interazioni con narcisisti psicopatici maligni. Mi piacerebbe sapere il perché. È un tema talmente difficile e spinoso da trattare che l'università lo considera solo nei dottorati e gli studenti di psicologia e psichiatria lo vedono come qualcosa di talmente complicato che preferiscono dedicarsi ad alte specializzazioni? Sarà che le riviste femminili vendono di più indicandoci come dobbiamo imitare le icone della moda che allertandoci su questi esseri maligni? I governi non ne educano su questo argomento perché ci temono che ci rendiamo conto che gran parte dei nostri politici sono psicopatici che ci manipolano. Le università dovrebbero includere il tema della psicopatia nel corso di laurea, non solo delle carriere mediche ma anche in quelle sociali per poter prevenire questo flagello. Le riviste venderebbero tonnellate di coppie se sapessero presentare la materia come l'origine dell'abuso della manipolazione invece di presentarli come casi isolati di pazzi assassini. Aiuterebbero a togliere le vende dagli occhi di uomini e donne così come provenire alla violenza domestica e l'abuso infantile. I governi hanno l'obbligo morale di contenere le epidemie delle popolazioni e questa lo è. Pertanto devono disporre dei mezzi necessari per l'educazione, la prevenzione e la cura delle vittime. Se ciò porta conseguentemente ad avere una popolazione più informata che non si lascia manipolare dai politici con disturbi di personalità di tipo B, gli stessi dovranno riconsiderare nuove forme di politica che siano veritiere, consensuali e realmente a beneficio delle persone. Tutti i sopravvissuti hanno pagine del tema sui social o blog a cui ricorrere. Ci muoviamo come una specie di organizzazione sotterranea ma non basta per creare consapevolezza. Se il tema dell'abuso psicopatico e narcisista vedesse la luce del giorno potremmo aiutare coloro la cui autostima, energia vitale, salute psicofisica sono rideotte a livello zero a causa di una relazione abusante e degradante che non riescono a identificare come la causa dei loro mali. Finché la società non si sveglia continueremo a condividere le nostre esperienze, appunti scientifici, risorse ed aiuto in forma artigianale come finora abbiamo fatto perché siamo convinti che per ogni persona a cui arriviamo l'ignoranza vada via via sconfitta. Spero che la conoscenza che si propaghi e che qualcuno di coloro che possono portare l'argomento ai mezzi di comunicazione di massa abbiano il coraggio necessario per poter essere pioniere della diffusione di un tema che senza dubbio sarà illuminante su vasta scala e che la società sosterrà e sfrutterà la ricerca di risposte e di salute. Ecco perché è importante condividere e diffondere il più possibile i video che trattano questi tema, parlare di queste dinamiche con altre persone senza vergogna e senza paura di essere giudicati. Sai idee e proposte che vanno in questo senso contattami in privato inviando una mail a paolafendi chiocciolagmail.com. Se invece ti vuoi unire alla nostra comunità ti invito ad iscriverti a partecipare alle nostre dirette del mercoledì sera. Ci vediamo nel prossimo video.